Tra poco ci sta Luca un clave. Camilla, voglio un papa che duri poco. Papa Sisto V lasciò un segno indelebile sull'urbe. Lui ha cominciato a farsi conoscere per la sua capacità di predicare. Era un uomo duro. Parla per gesti in maniera molto chiara. L'autorità dello Stato Moderna è il papa e solo il papa amministra la giustizia. La Roma Pontificia doveva essere un modello. Il fascino che oggi ha la città di Roma è dovuto anche a Sisto V. È il momento di altre imprese straordinarie, architetto. Già, l'obelisco. Avete forse porre di non farcela, Fontana? During its nights. U maps r Mallorca. O è lo russo. Trollata di voi. Trollata di riscowie. Ovalle. Trollata.